Grazie Presidente. Onorevole Ministro, colleghi, il nostro Paese sta attraversando una crisi gravissima, sanitaria ed economica. Il nostro Paese sta anche già ricevendo atti di solidarietà concreta dell'Unione Europea. Il Consiglio ha sospeso il patto di stabilità, la BCE ha lanciato un programma senza precedenti di acquisto del debito pubblico dei Paesi membri sul mercato. Le stime del nostro PIL sono devastanti, il 6%, se non addirittura una recessione del 10% o del 15% a seconda di quanto durerà la crisi. È vitale immettere immediatamente liquidità per tutti gli agenti economici, imprese, lavoratori, autonomi, partite IVA, giovani precari. Come ci ricorda Mario Draghi, noi dobbiamo assolutamente non soltanto dare un reddito a chi ha perso il lavoro, ma evitare che la gente perda il lavoro. Molti governi come la Svizzera hanno permesso alle loro banche di erogare prestiti solidali, speciali, pari al 20% del fatturato 2019, completamente garantito dallo Stato a tasso zero, ripagabili in 100 rate a partire dal gennaio 2022. Le chiedo, Ministro, se questa non sia un'ipotesi giusta, una misura giusta anche per il nostro Paese, il Paese più colpito dalla crisi del coronavirus, per tutelare lavoratori, imprese e permettere alle aziende di riaprire il prima possibile, sempre rispettando le precauzioni di sicurezza sanitaria. Grazie. Grazie, Ministro, per aver ricostruito puntualmente l'azione del Governo messe in campo fino adesso, conclusa con il suo riassunto indicando le risorse pari a 500 miliardi. Noi però insistiamo sulla proposta. Le garanzie e le risorse messe a disposizione, anche dentro il lavoro che dovrà fare il tavolo della Task Force, noi insistiamo alla sua attenzione, l'attenzione del Governo, affinché si immagini una funzione ponte a favore delle piccole e medie imprese e dei titolari di partita IVA che consenta loro in modo immediato, facile e diretto, attraverso il sistema bancario garantito dallo Stato, di ricevere la necessaria liquidità. Perché non è vero che tutto è fermo e non è vero che tutti i pagamenti sono fermi. Ci sono degli oneri, ci sono degli oneri contrattuali, anche le imprese che oggi lavorano, per esempio sul fronte alle imprese terziste, hanno difficoltà ad approvvigionare i propri fornitori principali. Dunque noi dobbiamo rivolgere una straordinaria attenzione, finalizzando le risorse che lei ha citato e aggiungendo quelle ulteriori possibili, verso un sistema ponte che consente alle imprese, attraverso il sistema bancario, di avere l'anticipazione reale. Noi abbiamo indicato una percentuale che ci sembra anche dentro una cornice di operazioni bancabili, il 20% rispetto al fatturato dell'anno precedente, ma che possono essere ulteriormente aumentate, per fare in modo che con certezza le imprese possano fare fronte alle diverse necessità che hanno ancora oggi. Fino a quando le utenze non sono sospese, le utenze devono essere pagate, fino a quando non si accede al fondo Gasparrini, i mutui e i finanziamenti devono essere onorati. Per questo noi crediamo che fare fronte, attraverso la funzione ponte del prestito bancario, consente alle imprese veramente di non cedere. Del resto c'è chi governa, ha una grande responsabilità, concludo Presidente, che è quella di stabilire la catena delle priorità. Per quanto ci riguarda la priorità delle priorità oggi è garantire la liquidità al sistema economico, soprattutto delle piccole e medie imprese. Grazie.